E se devo farlo, perché non subito? Qui, adesso, prendo le pistole. E se non fosse successo niente, restituisco il denaro a Caterina. Nessuna traccia della mia infania, solo nel mio cuore, porterei per sempre O Dio mio, solo un miracolo. O Dio mio, restituisci la vita a quell'uomo. Se non fosse ancora vivo, che dico, maledizione, quello è morto di scuro. Voglio andare in convento. Ma no, no, Dio, ti voglio parlare, Dio ci perdonerà. Se io fossi Dio, perdonerei tutti. Gli uomini sono buoni anche. Buoni e cattivi nello stesso tempo. Io sono buona. Buonissima. Sì, ma però tu non devi più dargli da me. No, dai, aspetta. Sarò tua, ma non ora, non qui, con quei guacchiusi da dentro, è ripugnante. Ma conosci che io ti adoro. E allora portami via, lontano da qui. Andremo dove vuoi tu, se tu sapessi. Ma che cosa? Groscia che io sono un ladro, ho rubato i soldi di Caterina. No, non li hai rubati. Andrai a restituirli e li te li darò io. Ma che cosa ce ne facciamo noi due dei soldi? Noi andiamo da questa signorina, le portiamo i soldi, le chiediamo perdono e ce ne andiamo. E se non ci perdona ce ne andiamo lo stesso. E da ora in poi tu pensi soltanto a me, se non ti strangolo, a te e a lei. Groscia che io ti amo, ti amo, ti amerei ovunque, anche in Sibeli. In Sibeli, ma perché in Sibeli? Dimitri. Signori, che significa? Dimitri Fiondorovic Karamato. Suizidem. Capisco. Il vecchio. Il vecchio insomma. Capite? Ha capito, assassino. Mostro, guardate, è ancora sporco nel sangue. Michele Macalic, per favore, così è regolare. Ma se per parlare meglio. Venite qua. Non dite una parola. Capitano in congedo Dimitri Fiondorovic Karamato, siete accusato per la morte di vostro padre. Non sono innocente. Nel sangue di mio padre sono innocente. Avrei voluto farlo, ma non sono stato io. Sono stata io, è colpa mia. Mi è colpa mia, ha dato quel povero. Sì, è tua la colpa, sei tu la responsabile. Perversa, perversa. C'è il maggiare, c'è il regolare, calmate. Giudicateci. Non credetemi, lei non è colpevole di nulla. Comenze, lasciamo andare. Lei è innocente. Chiamerò per stai. Lei non è vero. Lasciami, non lasciatevi. Lasciatelo andare. Lasciatelo andare. Lei non è colpevole di nulla. Volete interrompere l'interrogatorio. Come vi ho già detto, non trovando la mia Grushenka lì dove l'avevo lasciata, dal mercante Samsonovi, sono corso a casa sua. Non trovandola nemmeno lì, sono andato a casa di mio padre dove temevo che fosse finita. Ho scavalcato lo steccato del giardino della casa e sono rimasto un po' per vedere se Grushenka era lì. La luce della camera di mio padre era accesa. Mi sono avvicinato alla finestra e ho fatto il segnale convenuto, quello che mi aveva rivelato Sverdiakov. Lui si è subito affacciato e ha cominciato a chiamarla. Grushenka! Grushenka, morino mio! Tesoruccio mio, dove sei? Si sporgeva con tutto il suo corpo libidinoso. Era una visione orribile. E questo è il mio rivale. Questo essere libidinoso e puzzolente vuole mettere le mani addosso all'angelo mio. Ho sentito una rabbia venirmi su dallo stomaco, ero curioso. Fuori di me, ho preso il pestello da una tasca e... Andate avanti, avete strattolato l'arma e poi... E l'ho ucciso! Gli ho fracassato la testa! Secondo voi è andata così, vero? Perché invece, secondo voi, com'è andata? Secondo me è passato un angelo. O qualcun altro. O il diavolo è stato sgonfitto. Mi sono allontanato dalla finestra. Mi sono messo a correre verso lo steccato. È lì che Grigori mi ha raggiunto, mentre lo stavo scavalcando. Mi ha ferrato per una gamba. Io l'ho picchiato per liberarmi! Dite la verità, non credete ad una sola parola di quello che ti ho detto. Un ladro è più abbietto di un mascazzone! E quella sera ho deciso di diventare ladro per tutta la vita. E perché è proprio quella sera? Perché ormai per me era finita. È ciò che mi tormentava di più. Non era l'aver ucciso il povero vecchio Grigori, ma la consapevolezza di essere diventato un ladro in piena regola. Forse comincio a capirvi. Però scusate, una soluzione per uscire dalle vostre gocce c'era perché non si è ne andata la vostra ex fidanzata, Caterina Mielcocceva, a restituirle il resto della somma che non avete speso con la vostra amanda. Ma dite sul serio! Ma come potete immaginare una simile nefantezza? Tiedere i soldi all'ex fidanzato per poi spenderli con l'amante! È il guaio che io nella mia follia ci avevo anche pensato. E lei nella sua follia me li avrebbe anche dato. Signore, io vi ho fatto una drammatica confessione. Accettatela e rispettatela. O se anche questo vi lascio indifferenti, io morirò di vergogna per essermi confessato a tipi come voi. Va bene, metteremo a fermare che fino all'ultimo voi volevate andare dalla vostra ex fidanzata e di vedere. No, 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 almeno questo no! Come una vostra preoccupazione, scusate, verrà un intercessivo, tu via! È una testimonianza importante per voi, soprattutto, meno che per noi. Allora, adesso mi rispondete, per favore. Siete sicuro che nessuno vi ha sentito parlare del denaro che avevate cucito nel vostro amuleto? Ma sì! Ma loro non l'avete capito niente! No, siete voi che non capite niente! Noi abbiamo decine di testimonianze pronti a garantire che si tratta di 3.000 e non di 1.500 rubri! Mentivo, mentivo! Tutti hanno mentito! Sì, vabbè, questo è molto difficile da stabilire, ammetterebbe. Mi parlate della muretta, per favore, com'era? Piccolo o grande? Piccolo? Piccolo quanto? Come un biglietto da 100 rubri piegato al quadro. Ah, mi è rimasto qualcosa di quello che è un pezzo di stoffa, un filo, un bottone... Ma il diavolo! Scusatemi molto! A che punto del percorso ve lo siete levato dal collo? Dove lo avete messo? Per strada, da qualche parte. Tornavo da casa di teglia. Per strada, al buio? No, avevo la candela, sempre che al buio. Avete usato un paio di forbici? No, era un pezzetto di stoffa vecchia, si è strappata subito. Dove l'avete messa? Ma da qualche parte della piazza l'ho buttata, non ricordo. Non ricordate? Ma possibile? Questa qua c'è una testimonianza, la dico a vostro favore. Chi ve l'ha cucito? Io. Sapete anche il cucire? E la stoffa dove l'avete presa? Era una vecchia camicia, un lenzuolo. Allora cercheremo la vecchia camicia o lenzuolo col pezzo mancante? Ma adesso vi ricordo bene, era una vecchia cucchia della padrona di casa. Allora la domanderemo alla padrona di casa, ne l'avete chiesta? No, no, un giorno mi serviva un pezzo di stoffa vecchia per pulire il penino. Allora ne mancherò un pezzo di stoffa vecchia per pulire il penino. Ma vi dico che era una vecchia cucchia, lì si dava a scherzo. Basta, basta, basta! Io non dirò una parola di più! Applausi. Applausi.